intanto scusate la voce da domani inizia la seconda edizione del forum internazionale del turismo organizzato al ministero del turismo è un evento importante perché l'anno scorso prima edizione ricordiamo che la formula che era inedita a livello mondiale è stata poi clonata da in numerevole in azione significa che c'era bisogno di prendere tutti gli attori più significativi del mondo del turismo e metterli tutti in contatto tra di loro e questo è quello che è successo sul palco ci saranno quest'anno ancora personaggi importanti che ci racconteranno tante cose da cui impareremo molto molto sentite la voce ma non me ne importa niente perché domani e dopo sono i giorni della vita ovvero per chi si occupa di turismo è fondamentale esserci ringrazio il ministero del turismo per aver invitato me come giornalista per il settore ho portato la mia squadra che credo sia una squadra importante qualificata di professionisti che mi aiuteranno mi saranno il supporto perché c'è bisogno anche in questo caso di fare squadra quindi da domani attenzione perché di tanto in tanto non appena possibile verranno mandati gli aggiornamenti su tutto ciò che succede qui a frenze al forum internazionale del turismo seconda edizione che inizierà con tante difficoltà anche perché guarda caso domani c'è la sciopera dei mezzi a firenze che tempismo c'è la sciopera dei mezzi a firenze che non mi aiutano il turismo che si occupa di qui si occupa di un certo senso non mi spiega il turismo che si occupa di tutti i miei di tutti i miei gli aggiornamenti sui fondamentali che inizierà un'ottima